hitworn domenica in casa ogni mattina di domenica in estate scosto la tenda della finestra per osservare l'alba che scende furtivamente su un campanile di fronte alla mia camera inizia a risplendere per prima la banderuola sul tetto poi un più lieve riverbero fa svettare l'aguglia e si diffonde sulla torre facendo brillare come oro la lancetta del quadrante che indica la cifra dorata dell'ora scintilla la finestra più alta poi quella più bassa e la struttura scolpita del portale si delinea vivamente e infine lo splendore del mattino calando dal cielo si posa sui gradini di pietra uno dopo l'altro e il campanile si innalza fulgente di fresca radiosità mentre le ombre della notte si annidano ancora tra gli angoli degli edifici adiacenti e anche se è lo stesso sole che lo illumina ogni limpido mattino a me sembra che il campanile indossi per la domenica un abito particolare di fulgida luce chi abita accanto a una chiesa ben presto sviluppa un particolare sentimento per questo edificio istintivamente lo personifichiamo immaginiamo che nelle sue massizze mura e nel suo fioco interno si è insito uno spirito sereno pensoso e un po' malinconico ma il campanile si erge ancor più nei nostri pensieri oltre che nel paesaggio circostante ci appare come un gigante dotato di una sua mente abbastanza acuta e comprensiva per prendersi cura degli assilli grandi e piccoli di tutta la città nel mentre rivela una morale a tutti coloro che pensano rammenta ogni ora migliaia di persone affacendate i loro personali e più segreti affari ed è ancora il campanile che propaga i rintocchi affannosi e irregolari dell'allarme generale le oreliete e festose non trovano espressione migliore nella sua voce e quando i defunti trapassano lentamente nella loro casa il campanile usa una voce malinconica per dar loro il benvenuto eppure nonostante questo suo rapporto con le vicende umane quale solitudine morale alezza nei giorni feriali intorno alla sua imponente altezza non mostra alcuna affinità con le case che sovrasta e guarda dall'alto la stretta strada ancora più solitario perché la folla si accalca al di sotto uno sguardo all'edificio della chiesa profondisce questa sensazione all'interno alla luce di lontane finestre e tra ombre spezzate distinguiamo i banchi vuoti, le navate deserte, l'organo silenzioso, il pulpito senza voce e l'orologio che racconta alla solitudine come sta passando il tempo il tempo che non è vissuto dall'uomo che altro è se non eternità e nella chiesa possiamo immaginare che ci depositano nel corso della settimana tutti i pensieri e i sentimenti che hanno attinenza con l'eternità finché non ritorna il giorno festivo a liberarli il suo luogo più appropriato non potrebbe essere allora la periferia della città dove i vecchi alberi hanno spazio per stormire tutto intorno e gettare le loro ombre solenne su un prato silenzioso ne parleremo ancora più avanti ma nel giorno festivo guardo i primi raggi del sole e immagino che un più santo splendore segni la giornata quando non ci sarà più brugio di voci al mercato né trambusto nei negozi né folla né alcun'altra attività che è in chiesa molti altri l'hanno immaginato da parte mia sia che la veda filtrare tra l'intrico degli alberi o splendere apertamente sui campi o stagliarsi tra due edifici di mattoni o delineare il telaio della finestra sul pavimento della mia camera sempre riconosco la luce del sole domenicale e che possa sempre riconoscerla alcune illusioni e questa tra esse sono l'ombra di grandi verità i dubbi possono volteggiare intorno a me o chiudere le loro ali maligne per posarsi ma finché immagino che la terra è santificata e che la luce del cielo mostra la sua santità nei giorni festivi quando quella luce benedetta del sole vive dentro di me la mia anima non potrà mai perdere l'istinto della sua fede se ho smarrito la strada questo istinto ritornerà amo trascorrere questi piacevoli giorni festivi da mani a sera dietro alla tenda della mia finestra aperta sono forse malamente spesi ogni luogo così vicino alla chiesa da essere visitato tutto intorno dall'ombra del campanile oggi dovrebbe essere considerato terra consacrata e a maggior ragione si può dire che un cuore devoto può consacrare un covo di furfanti così come un cuore malvagio può parimenti corrompere un tempio il mio cuore non possiede forse tanta santità né oso sperare tanta sacrilega potenza ma è sufficiente che anche se la mia persona è assente il mio intimo frequenti assiduamente la chiesa mentre molti la cui presenza fisica occupa il consueto banco hanno lasciato a casa la loro anima ma io sono qui prima ancora del mio amico sagrestano e infine arriva quest'uomo di cortese ma severo aspetto con i suoi abiti grigi e i capelli dello stesso colore e introduce la chiave nell'ampio portale e ora i miei pensieri possono passare tra i banchi polverosi o salire sul pulpito senza compiere il sacrilegio ma ben presto ne usciranno di nuovo per godere la musica della campana che suono lieto ma anche solenne tutti i campanili della città stanno ora parlando insieme attraverso l'aria illuminata dal sole e si allietano tra loro mentre i loro cuspidi si elevano verso il cielo e intanto ecco che i bambini si radunano per la scuola domenicale e si trova dentro la chiesa spesso mentre osservo l'arco del portale sono stato allietato dalla visita di una decina di questi bambini nei loro abitini rosa azzurri, gialli e cremisi che improvvisamente sciamano fuori nella luce del sole simili a festose farfalle che sono state rinchiuse nella solenne penombra oppure potrei paragonarli a cherubini che affollano quel luogo sacro un quarto d'ora prima dei secondi rintocchi della campana iniziano a comparire i membri della congregazione la prima è sempre una vecchina vestita di nero la cui figura con le spalle curve è evidentemente oberata dal peso di qualche dolore che è impaziente di posare sull'altare fossero il doppio le domeniche per il bene di questa vecchia anima afflitta ecco un nome anziano che arriva anch'egli di buon'ora e si appoggia all'angolo della torre dentro la sua linea d'ombra abbassando lo sguardo corrucciato a volte immagino che la vecchina sia la più felice dei due dopo di loro arrivano gli altri fedeli da soli o in gruppi di due o tre e scompaiono oltre il portale oppure prendono posto nelle vicinanze e infine apparentemente inaspettata come sempre la campana rintocca sopra le loro teste e giatta un suono irregolare che fa vibrare la torre fin dalle fondamenta come se quel suono fosse dotato di magici poteri i marsepiedi della strada da una parte e dall'altra si affollano immediatamente di due lunghe file di persone che convergono verso la chiesa e affluiscono al suo interno forse questa è l'eco lontana di una carrozza che si avvicina un rombo ancora più profondo in contrasto col circostante silenzio finché scendono davanti al portale tra i loro più umili fratelli i fedeli facoltosi oltre a questo ingresso non esistono in teoria distinzioni di rango terreno né il sontuoso abbigliamento foggiato alla luce del sole apparirebbe tale all'interno e quelle graziose ragazze perché turbano le mie devote meditazioni tra tutti i giorni della settimana proprio la domenica dovrebbero sforzarsi di apparire meno appariscenti anziché accrescere la loro mortale bellezza come per rivaleggiare con gli angeli e distogliere i nostri pensieri dal cielo così io il pastore dovrei necessariamente guardare una ragazza indossa bussola bianca dalla cintola in su e setanera fino alle scarpette una seconda arroscisce dal nastro dei capelli a quello delle scarpe nel suo uniforme color scarlato un'altra splende ed un giallo smagliante come se indossasse la luce del sole la maggior parte ha però scelto tonalità più attenuate di colori i loro veli soprattutto quando il velo li solleva conferiscono leggerezza all'effetto generale e le fanno apparire etere i fantasmi quando scivolano su e giù per i gradini e scompaiono oltre la scura soglia anche se è davvero strano che io lo sappia indossano quasi tutte calze bianche candide come la neve e graziose scarpine allacciati di traverso con un nastro nero un po' sopra alla caviglia una calza bianca è infinitamente più seducente di una nera ecco chi arriva al pastore lento e solenne nella sua severa semplicità e non ha bisogno di una veste di setanera per mostrare il suo ufficio il suo aspetto mi impone deferenza ma non può conquistare il mio affetto se dovessi rappresentare san pietro che tiene chiuse le porte del cielo guardando accigliato più severo che pietoso e miseri postulanti mi spererei a quel volto dalla mezza età o ancora prima la fede si è in generale imposta sul cuore o ne è stata temperata quando il pastore entra in chiesa la campana trattiene la sua voce di ferro e il sommesso brusio dei fedeli si spegne in grigio segrestano guarda su e giù per la strada poi rivolge lo sguardo alla tenda della mia finestra e quasi mi sembra che attraverso lo spioncino abbia incontrato il mio sguardo ora anche i ritardatari sono entrati e la strada è addormentata sotto il placido sole mentre un senso di solitudine si impadronisce di me insieme col disagio di aver mancato ai miei diritti e doveri sì, sarei dovuto andare in chiesa il lieve trambusto dei fedeli che s'alzano in piedi per pregare giunge alle mie orecchie se solo potessi portare il mio cuore all'unisono con quello di coloro che pregano in quella chiesa ed elevarlo verso il cielo con fervore di supplica ma senza alcuna precisa richiesta non sarebbe questa la migliore delle preghiere? oh signore abbassa su di me il tuo sguardo con misericordia con tale sentimento che si effonde dalla mia anima non mi sarebbe consentito lasciare a lui tutto il resto ascolta è il coro questa è almeno una parte della funzione che posso godere qui meglio che tra quelle mura dove tutto il coro e la musica greve dell'organo mi opprimerebbero a questa distanza mi percorre e fa vibrare le corde del mio cuore dandomi piacere ai sensi e allo spirito grazie al cielo non so niente di musica e le più dolci armonie mi piacciono soltanto come una ninna nanna le note sono cessate ma si prolungano nella mia mente con echi di fantasia finché mi ridesto dal mio sogno e mi accorgo che il sermone è iniziato per mia sfortuna raramente i sermoni danno frutti con regolarità se non quando sono stampati il primo concetto profondo che il predicatore esprime dà origine a una successione di pensieri che mi porta passo dopo passo a non ascoltare più la voce del brav'uomo se non è quella del tuono davanti alla mia finestra aperta afferrando di quando in quando una frase del sermone mi trovo come se fossi ai piedi del pulpito i frammenti sparsi e spezzati di questo discorso diventeranno i testi di molti altri sermoni predicati da quegli altri pastori suoi colleghi ma spesso avversari che sono la mia mente e il mio cuore la prima si finge studiosa in materia e mi sconcerta con questioni dottrinali il secondo mi prende sull'onda dei sentimenti e tutti e due come molti altri predicatori spendono le loro forze con ben poco risultato io il loro unico ascoltatore non riesco sempre a comprenderli immaginiamo che alcune ore siano trascorse e mi trovino ancora dietro alla tenda poco prima della fine della funzione pomeridiana la lancetta del loro rollo ha superato le quattro e il sole si nasconde declinando dietro al campanile proiettando la sua ombra attraverso la strada così che nella mia camera cala la penombra come per una nuvola intorno al portale della chiesa c'è soltanto solitudine e oltre la soglia si estende un'impenetrabile oscurità si ode un trambusto i sedili sono rovesciati indietro e sono chiusi gli sportelli dei banchi poi una moltitudine di piedi calpesta le invisibili navate e tutta la congregazione dei fedeli esce improvvisamente dal portale per prima sgambetta una flotta di ragazzi dietro ai quali avanza una fitta e scura massa di uomini adulti seguiti infine da una folla di donne con bambini più piccoli e qualche marito questa improvvisa esplosione di vita nella solitudine della strada è una delle scene più amene della giornata alcune di queste brave persone si strofinano gli occhi come per far capire che sono state immerse per così dire in una sorta di sacra estasi nel fervore della loro devozione ecco un giovanotto una specie di bellimbusto la cui prima preoccupazione è sempre quella di sventolare un fazzoletto bianco per spolverarsi il fondo di un paio di pantaloni neri di seta che brillano come se fossero stati lucidati devono essere fatti di quella stoffa chiamata eterna o forse di quella indossata da cristiano nel viaggio del pellegrino perché li porta già da due estati e non hanno ancora perso la loro lucentezza mi diverto molto nel guardare questi pantaloni neri di seta ma ecco che le signore tra inchini e saluti scambiati con le amiche prendono sotto braccio i rispettivi consorti e si incamminano con passo grave verso casa anche le ragazze se ne vanno con passo danzante dopo aver combinato una passeggiata serale con lo scapolo che preferiscono la sera del giorno festivo è la vigilia dell'amore e infine tutta la congregazione si scioglie no, ecco che con volti lucidi come di seta nera s'avanzano due dame scure accompagnate da un gentiluomo altrettanto scuro e subito dietro loro il pastore che ammorbidisce la sua severa espressione per rivolgere una cortese parola ad ambedue poverine per loro la più accattivante promessa di beatitudine in cielo è questa là saremo bianche ora regna di nuovo la solitudine ma si ode poi un cinguettio spezzato di voci e al loro dolce suono si accompagnano nella loro grandiosità le solenne note dell'organo chi sono i coristi? lasciatemi immaginare che gli angeli discesi dal cielo in questo felice mattino per mescolarsi al culto delle anime buone stiano suonando e cantando per congedarsi da questa terra e sulle ali di quella dolce melodia stiano risalendo in cielo questo, gentili lettori è soltanto un volo poetico alcuni uomini e donne del coro si sono attardati in chiesa e hanno alzato le loro voci accompagnandosi con qualche distratta nota dell'organo eppure hanno elevato il mio animo più che con tutte le precedenti melodie e ora se ne sono andati questi figli della musica e il grigio sacrestano sta chiudendo il portale per sei giorni non comparirà volto umano tra i banchi nelle navate nelle gallerie né si alzerà una voce dal pulpito e musica dal coro valeva forse la pena di erisere questo imponente edificio per farne un deserto nel cuore della città e popolarlo soltanto per alcune ore il settimo giorno? sì, la chiesa è simbolo della religione e il suo luogo che è stato consacrato il giorno in cui è stato abbattuto il primo albero possa essere conservato sacro per sempre luogo di solitudine e di pace tra gli affanni e le vanità del nostro mondo dei giorni feriali si può sentire una morale e quindi anche una religione perfino tra quelle mura silenziose e il suo campanile possa svettare sempre verso il cielo ed essere rivestito della Santa Luce del Sole della Domenica Mattina grazie a tutti grazie a tutti